Ciao a tutti, buonasera e ben ritrovati sul canale, buon sabato. Oggi parliamo di fumetti e torniamo a discutere su Mr. No. Nello specifico parliamo della quarta storia di Mr. No contenuta sugli albi 6 e 7 della serie regolare che come sapete io posseggo in questa versione ristampa grande formato a colori, quella che attualmente sta uscendo con la gazzetta dello sport. Iniziamo subito dalle copertine. Tra parentesi volevo scusarmi perché nell'ultimo video che ho fatto registrato ieri venerdì in cui parlavo dell'ultimo numero di Nathan Never mi sono dimenticato alla fine di parlare della copertina per cui perdonatemi ma me ne sono veramente scordato. Per non commettere lo stesso errore questa volta inizio proprio dalla copertina, anzi dalle copertine perché come potete vedere la storia è suddivisa in due albi. Abbiamo Galienoferri che si occupa delle copertine come al solito e sono copertine veramente molto belle. Fra le due io preferisco quella dell'albo numero 7. Guardate che atmosfera presenta questa copertina, ha veramente un grande fascino secondo me avventuroso. Abbiamo Sergio Bonelli alias Guido Nolitta alla sceneggiatura mentre invece ha i disegni l'esordio di Roberto Diso sulla testata, come potete vedere da questi disegni veramente fantastici. Roberto Diso che è stato, voi sapete, uno tra i più importanti disegnatori di Mister No e sostituì addirittura Galienoferri come nel ruolo di copertinista della serie. Adesso non so dirvi di preciso il numero insomma dell'albo dal quale sostituì Galienoferri però comunque è stato anche uno dei più importanti, anzi uno dei due copertinisti della serie di Mister No e ultimamente con l'uscita della miniserie Mister No e nuove avventure Roberto Diso ha avuto un ruolo di primo piano disegnando ben più di una storia. Per cui insomma un disegnatore, un fumettista, un artista che è sicuramente legato molto al personaggio di Jerry Drake. Lo vediamo in questa storia per la prima volta all'opera sulla testata e il lavoro secondo me prodotto diciamo da Roberto Diso è fantastico. Guardate quanta espressività riesce a dare a Mister No, cogliendolo appieno nel suo lato più sornione, più ironico, più divertito, più furbesco, passatemi la strana espressione. Insomma sono dei disegni veramente fantastici secondo me che mettono in risalto forse addirittura più dei disegni di Bignotti, di Donatelli e dello stesso Ferri la personalità veramente unica di questo grande personaggio. Insomma i disegni sono veramente veramente belli e come potete vedere nelle quarte di copertina dei due albi qui abbiamo Mister No disegnato da Diso mentre invece qui abbiamo Mister No disegnato da Bignotti e vedete che insomma lo stile è differente. Insomma se proprio devo dire la verità o meglio la verità il mio pensiero io credo che Roberto Diso avesse uno stile molto più moderno rispetto a quello di Bignotti, a quello di Ferri e a quello di Donatelli. Secondo me gli stili di questi ultimi disegnatori si riagganciano molto a quella che è la classicità potremmo dire del fumetto mentre invece qui Diso pur mantenendo come potete vedere una griglia molto classica riesce secondo me a rendere in qualche modo più moderno il tutto. Molto interessanti anche questi inserti documentaristici che sono piuttosto ricorrenti nelle tavole di Diso per cui l'Amazzonia ci viene descritta alla perfezione nella sua flora e nella sua fauna. Ecco potremmo dire così. Come ultimo punto facciamo due parole così molto veloci sulla storia. La storia è molto molto bella, molto avventurosa. Mister No viene ingaggiato da dei tizi che si rivelano essere dei rapitori. Rapiscono un vecchio signore che si scopre essere il padre di una ragazza francese che chiede aiuto a Mister No per ritrovarlo. Con il passare della vicenda si scoprirà che questo signore potremmo dire rapito è in realtà un ex malavitoso e insomma scopriremo che dietro c'è tutta una particolare trama. La storia è molto semplice e molto dinamica nel suo svolgimento, divertente, scansonata. Si avverte anche una sorta di, passatemi il termine, tensione sessuale fra Mister No e la bella di turno, questa ragazza francese di nome Anouk. E il finale è veramente molto, come posso dire, molto divertente, molto scansonato, molto ironico, quasi comico, ecco, per certi versi. E rispecchia in pieno quello che è lo stile, è la personalità, il carattere di Mister No. Per cui, ancora una volta, una storia veramente molto divertente, veramente svagata, ironica, dinamica, veloce. Un personaggio che, ad essere sincero, mi convince ogni volta di più. Voi sapete che lo sto scoprendo soltanto adesso, perché io all'epoca non esistevo, per cui le storie le sto leggendo adesso per la prima volta. E devo dire che, come mi è stato confermato da molti che ben conoscono il personaggio, le storie sono sempre più belle man mano che la serie prosegue. Ecco, potremmo dire così. Per il resto io vi ringrazio per il sempre cortese ascolto. Se avete qualcosa da dire a riguardo di questa storia, scrivetelo pure nei commenti. Io sarò felicissimo di leggervi, di rispondervi. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi auguro una piacevole serata e alla prossima. Ciao a tutti!